e allora la Madonna porta via il figlio di Gerusalemme e lo porta fuori perché tutti i primi geniti li vogliono ammazzare e allora ho fatto il sommarlo con la Madonna e con San Giuseppe ah quindi questa è anche l'ultima tua opera? sì sì ah questa è la tua ultima opera? sì perbaco certo che tu dalle piccole cose ne fai grandi cose e io con il legno mettendo il legno al fuoco ho incontrato un'immagine che mi ha ispirato che è Giuseppe e Maria l'ho fatto di legno ah ecco e con le mollette ho fatto la grotta gli irmici che si dicevano in affiata gli imbrici gli irmici gli irmici si chiamavano sì certo in dialetto nostrano e allora ho pensato di fare questa costruzione per il mio ricordo perché non so stare ferma non ho saputo mai dire no a quello che mi è venuto in testa certo ho tutto manipolato con le mie mani e col mio cervello scrivo, leggo e faccio di tutto brava Irma sei veramente una grande artista e questo te lo dice un tuo amico che si chiama Giovanni Mister Nessuno grazie ciao bellissima e auguroni di tutto cuore grazie ciao grazie Giovanni Mio ciao